Un caro saluto a tutti e ben ritrovati anche questa sera ad Epi Hour. Oggi parleremo di bellezza, di salute e di medicina estetica. Lo faremo con Lab42 e con i miei ospiti qui studio ai quali do il benvenuto. Ritroviamo Jessica Altieri, titolare di Lab42. Ben ritrovata Jessica. Grazie, buonasera. E diamo anche il benvenuto al dottor Riccardo Midolo, medico estetico. Ben ritrovato anche a lei. Allora Jessica, abbiamo detto che parleremo di bellezza e di medicina estetica, ma punteremo un po' l'attenzione su quelle che sono le adiposità localizzate. Diciamo di chili accumulati durante l'inverno che non siamo riusciti in nessun modo a smaltire, giusto? Assolutamente. Poi in questi giorni chiaramente il tempo non gioca a favore, quindi evitiamo di spogliarci, dobbiamo necessariamente coprirci, però è vero che poi si arriva all'ultimo minuto e ci si accorge che durante l'inverno sono stati accumulati quei 3-4 chili che poi si cerca di smaltire in maniera anche non sempre corretta. Tanto siamo coperti, non si vede nulla. Quelle volte si fa finta, diciamo, di non guardarsi e si evita di affrontare invece poi la problematica. Poi si arriva alla fatidica prova costume e lì ci si rende conto che bisogna correre a rimedi. E spesso sono anche rimedi non corretti, quindi diete fai da te, trattamenti spesso poi inefficaci o comunque non corretti. Quindi è importante spiegare... E molto spesso anche non costanti. Molto spesso non costanti e soprattutto con la speranza di poter ottenere il risultato i 20 giorni prima di andare al mare. Ecco, di solito non succede. Può succedere a livello di liquido, si può perdere sicuramente del ristagno, dei liquidi in eccesso, ma è chiaro che quando parliamo di adipe localizzata si parla di un inestetismo che va affrontato in maniera diversa e va valutato anche che tipo di adipe ci si presenta davanti. Quindi se è un adipe che è lì da tanto tempo e quindi va chiaramente affrontato in maniera diversa o davvero si è accumulato solo per uno stile di vita che durante l'inverno non è stato del tutto corretto. Quindi si può correre a dei ripari in maniera veloce con delle chiaramente terapie medico-estetiche associate che possono facilitare ad aiutare l'eliminazione. Però è chiaro che bisogna sempre partire dal presupposto che uno stile di vita è fondamentale. Quindi riprendere in mano davvero le abitudini alimentari che durante l'inverno non sono stati corretti e questo è il compito dei nostri nutrizionisti che all'interno degli ambulatori Lab42 si occupano di tutta la parte nutrizionale e in affiancamento ai medici che seguono invece delle terapie mirate possono sicuramente ottenere dei risultati diversi che il fai da te, diete sbagliate, diete sbilanciate o diete dell'ultimo minuto. Si può fare soprattutto in poco tempo ma bisogna comunque rivolgersi a strutture specializzate. Sempre, affidarsi a strutture, a persone competenti che sanno davvero poi quello che viene fatto. Assolutamente. Ecco, dottor Midolo, entriamo un po' nello specifico. Che cosa si intende per adiposità localizzata? Si intendono quelle parti del corpo dove vi è un accumulo, un iperaccumulo del tessuto adiposo quindi dove gli adipociti, che sono le cellule che contengono il grasso, si accumulano. Vi sono delle diversità tra le zone dove si accumula di più. Ad esempio, gli uomini tendono ad accumulare di più il grasso a livello addominale invece le donne che hanno una predisposizione chiamata genoide tendono ad accumulare di più il grasso a livello dei fianchi, della culotte e delle gambe. Questo perché? Perché ci sono dei fattori prettamente anche ormonali che influiscono su questo ad esempio per quanto riguarda l'uomo, se vi è un abbassamento del testosterone e quindi di conseguenza un aumento del cortisolo succede che vi è un iperaccumulo di adipe a livello appunto addominale. Invece per le donne, se vi è una sovrapproduzione di estrogeni tendono ad accumulare di più l'adipe a livello della culotte, a livello delle gambe. E poi ci sono anche altri fattori che influiscono sull'accumulo dell'adiposità. Questo innanzitutto è lo stile di vita. Quindi chi conduce una vita sedentaria tenderà sempre di più ad accumulare grasso e ad esempio anche per chi lavora molto tempo seduto è stato dimostrato che si tende di più ad accumulare grasso a livello della culotte. Questo perché proprio la conformazione, quindi la postura fa sì che venga accumulato più adipen in quella zona. E poi anche l'età perché soprattutto dopo i 40 anni inizia a cambiare il metabolismo e quindi di conseguenza... E qualcosa cambia. Esatto. E quindi bisogna correre ai ripari. Quindi se si conduce uno stile di vita non adeguato sicuramente riprendere in mano le proprie abitudini che sono a partire dall'alimentazione e dall'attività fisica. Noi abbiamo i nostri nutrizionisti e da poco abbiamo anche introdotto una nuova metodologia per seguire i nostri pazienti passo passo anche per quanto riguarda l'attività fisica. Con una semplice applicazione che si chiama My Wellness noi abbiamo la possibilità di monitorare e di suggerire al paziente quali tipi di esercizi fare quando è a casa oppure quando è in palestra o si trova al parco a camminare, a correre. Noi possiamo passo passo giorno per giorno monitorare che tipo di attività fisica hanno fatto e quindi di conseguenza anche i battiti cardiaci e le calorie che hanno consumato e poi controllarli. Quindi abbiamo un doppio controllo, un controllo sull'alimentazione e quello già lo facevamo prima e ci dava delle soddisfazioni e adesso abbiamo la possibilità anche di controllarli sull'attività fisica. Così non si sentono mai soli e non abbandonano questo metodo. Jessica, abbiamo parlato più volte di questo metodo Lab 42 dove l'attività fisica e l'alimentazione giocano un ruolo fondamentale. Assolutamente, proprio è quello che ci distingue è il fatto di aver capito che le persone vanno veramente accompagnate in questi percorsi, in questi cambiamenti quindi l'introduzione di questa nuova applicazione ci ha davvero permesso di completare, di creare davvero un metodo chiamiamolo multidisciplinare da sotto tutti i punti di vista perché anche solo un'alimentazione delle volte non è sufficiente a dare determinati risultati soprattutto quando parliamo appunto di grasso localizzato quindi l'utilizzo di uno strumento di attività fisica che loro possono svolgere dove vogliono ma che di fatto sanno di essere poi controllati quando si recano in ambulatorio e questo è un ottimo strumento per spronarli a farlo perché poi c'è qualcuno che li controlla e delle volte è proprio quello che fa la differenza il fatto di avere da noi Si è capitato da tanto con questo, come sta andando? Sono due mesi che noi stiamo utilizzando questo strumento e devo dire che veramente ci sono già più di 20 pazienti che si sono sottoposti al metodo Lab42 e hanno introdotto anche l'applicazione My Wellness per quanto riguarda l'attività fisica ed è davvero interessante vedere come ancora di più si ottengono i risultati non in maniera veloce ma in maniera armoniosa in maniera davvero graduale e veramente efficace da tutti i punti di vista e poi vediamo anche loro che finalmente iniziano ad avere anche voglia di uscire a fare la camminata la passeggiata cosa che prima era assolutamente una cosa fuori magari da quelle che erano le loro abitudini magari perché si sentono controllati e non vogliono fare brutta figura all'inizio può sembrare uno stress ma poi devo dire che è uno strumento che davvero funziona sul paziente molto, molto esatto dottor Midolo abbiamo visto quanto è importante l'alimentazione e l'attività fisica però esistono anche dei trattamenti medico-estetici per risolvere questi anestetismi, è giusto? esatto, sì innanzitutto mi preme sottolineare che prima di effettuare qualsiasi tipo di trattamento medico-estetico noi in ambulatorio facciamo sempre un'analisi di quella che è la problematica quindi di questo andiamo a vedere che tipo di grasso è perché ad esempio ci sono alcune tipologie di grasso dove oltre ad esserci il grasso c'è anche della lassità cutanea e quindi decidiamo quale tipo di trattamento andare a con cui intervenire abbiamo tra i più utilizzati via la cavitazione che tramite delle onde ultrasuoni che vengono emesse da un manipolo vanno a impattare le cellule adipose rompono la membrana della cellula adiposa e fanno sì che gli esca il contenuto e quindi appunto il grasso un'altra terapia molto utilizzata prettamente medicale è la mesoterapia lipolitica dove con delle piccole e quasi indolore iniezioni si somministra un prodotto che ha appunto il compito di andare ad attaccare gli adipociti e far sì che questi vadano anche loro a perdere il loro contenuto dopodiché come dicevo prima se ad esempio c'è oltre al grasso presente una mancanza di elasticità del tessuto utilizziamo con grande successo anche la radiofrequenza medicale medicale perché? perché possiamo utilizzare in quanto in un ambiente medico in quanto la esegua anche un medico possiamo utilizzare delle frequenze più alte delle comuni radiofrequenze che si possono trovare in altri centri e questo fa sì che ovviamente il risultato è più efficace perché appunto la potenza del macchinario è più alta dopodiché abbiamo anche come è già stata citata ampiamente la carbossiterapia con la quale riusciamo ad aumentare il metabolismo delle cellule e quindi se la cellula è diventata un metabolismo brucia più calorie esatto i trattamenti sono tanti da fare Jessica invece come tutti i mesi avete proposto un'offerta per tutte le persone che vogliono rivolgersi a Lab42 questo mese che cosa avete previsto? appunto abbiamo parlato localizzato si può possono trovare tutto sul nostro sito e quindi www.lab42.com e mandarci tutte le richieste e le informazioni che desiderano e siamo pronti a rispondere a tutti ecco quindi mi raccomando rivolgetevi in tanti a Lab42 anche perché questo è il periodo giusto Jessica io sono in chiusura per cui ti ringrazio ringrazio anche il dottor Midolo per essere stato qui con noi e ringrazio anche voi amici da casa una buona serata a tutti ringrazio anche voi amici 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 ringrazio anche voi amici